Musica Buongiorno principesse, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti nuovo video e oggi ho deciso di prepararmi insieme a voi testando una nuova collezione autunno-inverno di quest'anno più precisamente quella di Neve Cosmetics che si chiama Mistero Barocco è una collezione che presenta delle colorazioni calde tipicamente autunnali come potete vedere anche da questa immagine molto bella che mi sta piacendo molto devo essere sincera, mi sta piacendo molto la sto utilizzando tutti i giorni e quindi ho detto ok, perché non far vedere alle ragazze com'è la resa dei prodotti quindi farglielo vedere un po' dal vivo e quindi ho detto ok, realizziamo un trucco con questa collezione iniziamo subito e come al solito vado a fermare con un becco il mio ciuffo ma siccome l'ho accorciato mi sa che ne devo mettere due quindi sembrerò ancora più stupida del solito con due becchi comunque bando alle ciance vado a prendere il mio solito primer l'I Love Stage di Essence e lo applico su tutta la palpebra mobile fino sotto il sopracciglio ma anche sulla rima inferiore adesso vado a prendere una delle novità di Neve Cosmetics per quanto riguarda questa collezione che mi è piaciuta particolarmente mi sta piacendo veramente tanto ed è questa palettina la confezione è bellissima come tutti i prodotti di Neve Cosmetics a mio avviso questa confezione color crema con il logo dorato e questi disegni stile barocco e all'interno della palettina ci sono adesso ve la faccio vedere ci sono questi quattro ombretti bronzer barra blush perché appunto sono dei prodotti multiuso qui c'è un ombretto dorato satinato qui c'è un ombretto rosso opaco che io utilizzo come blush questo rosa anche questo è satinato quindi ha dei particolari riflessi molto carini e poi volendo può essere utilizzato come blush e poi questo marrone loro dicono opaco a me invece sembra di vedere dei riflessi però una volta applicato in effetti è completamente opaco quindi un bel marrone freddo che è bellissimo ragazzi dopo lo vedrete all'opera ma è bellissimo da utilizzare per fare il contouring il primo ombretto che vado a prendere è questo rosellino qui e lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile questo ombretto è estremamente pigmentato lo potete vedere anche voi ed è molto bello perché ha un sacco di riflessi dorati quindi non è il solito rosellino io ho molta difficoltà nell'utilizzare gli ombretti rosa ma questo è veramente particolare ed è molto bello quindi merita veramente giro il pennello dall'altra parte e vado a prendere il marrone opaco e lo stendo all'angolo esterno anche questo è un ombretto estremamente pigmentato ed è molto bello per andare anche a definire la piega dell'occhio veramente un ombretto valido e versatile adesso vado a prendere sempre lo stesso ombretto marrone ma con un pennello da sfumatura e vado a definire la mia piega oggi è domenica e appunto ho deciso di fare questo video perché ieri non ho avuto tempo causa lavori in casa e mi fa strano fare i video di domenica perché di solito di domenica faccio soltanto i vlog invece oggi no mi sono ho voluto dedicarmi proprio a questo video perché ci tenevo a mostrarvi questa collezione che secondo me merita veramente tanto e stranamente nonostante sia il 2 di novembre fuori è una giornata bellissima è una bellissima giornata d'autunno anche se la sera fa un po' freddo sta facendo comunque delle belle giornate calde di sole caldo non so quanto durerà però è l'autunno che tutti si immaginano con le giornate con il cielo azzurro il sole che scalda non c'è bisogno di mettersi troppi strati di vestiti addosso insomma è una bellissima giornata quindi mi sto anche preparando per uscire dopo e credo che andrò a fare un giretto a Varese perché oggi è la prima domenica del mese e quindi i negozi sono aperti tanto per far piangere un po' il mio portafogli adesso prendo un pennello da sfumatura più morbido questo è il 224 di MAC e vado a sfumare per bene l'ombretto marrone ieri sera sono riuscita a girare dalla casa del mio ragazzo la seconda parte del video sulle vostre domande quindi ho risposto a tutte le altre domande che ho trovato sotto la foto che ho pubblicato su Instagram e venerdì pubblicherò appunto questa parte di video ed è stato divertente mi è piaciuto molto poi insomma lo vedrete interagire anche se ve lo dico già non lo vedrete fisicamente però ha interagito molto in questo video ed è stata la prima volta è stato particolare insomma poi vedrete mi direte tutto quello che pensate se vi piace comunque come genere di video quello in cui io rispondo a tutte le vostre curiosità a dubbi, domande mi raccomando non esitate a chiedermi tutto quello che volete ora vado a prendere la Naked Basics questa è la A1 e utilizzo questo giallino qui che si chiama Foxy è un color giallino opaco e con lo stesso pennello di prima vado a stenderlo sotto l'arcata sopraccigliare e all'angolo interno ora prendo una delle matite delle quattro matite di questa collezione in particolare prendo questa che si chiama Ego ed è un marrone molto molto scuro dai riflessi un po' dorati e vado a delineare la mia rima poi prendo un pennellino angolato questo è sempre di Nave Cosmetics ed è il Violet Eye Brow e vado a sfumare leggermente la matita in modo da lasciarla un po' meno netta nella rima interna applico la mia solita matita color burro e questa è la mia amatissima e fedelissima matita di Chanel che si sta accorciando sempre di più questa è la numero 69 me lo chiedete sempre in tante e io mi trovo benissimo con questa matita quindi quando la finirò andrò sicuramente a ricomprarla perché è uno di quei prodotti di cui non potete fare a meno uno di quei prodotti che utilizzate tutti i giorni però sta durando sta durando parecchio e non la mollerò mai sulla rima inferiore vado a riprendere la mia matita marrone e poi vado a sfumarla riprendo il pennellino angolato di prima e la sfumo adesso passiamo alle ciglia mio solito piegaciglia e come al solito ho tantissimo mascara e utilizzo ancora questo di Essence il Get Big Lashes questo qui viola non mi fa impazzire ma non è nemmeno così male insomma adesso passiamo finalmente al resto del viso come al solito vado a coprire le mie occhiaie con un correttore aranciato questo è quello di Dermacos poi vado a prendere un correttore di MAC questo qui è lo Studio Finish Concealer nella colorazione NV20 è molto chiaro e vado a picchiettarne giusto un pochettino qui in modo da illuminare il mio sguardo ma questo correttore non mi piace per niente applicato sugli occhiai perché secca molto e perché le rende grigie va a ingrigire molto gli occhiai quindi sono molto molto più evidenti e quindi ho trovato questo modo alternativo di utilizzarlo proprio in questa zona qui per andare ad illuminare un po' il mio sguardo e utilizzato così devo dire che non è affatto male fisso il tutto con una cipria in polvere libera e adesso passiamo finalmente al contouring perché è la parte che più mi piace in questo periodo perché appunto sto utilizzando ve lo faccio rivedere di nuovo questo ombretto marrone qui è un ombretto marrone freddo ed è perfetto per il contouring adesso vi faccio subito vedere com'è all'opera è molto molto pigmentato come ombretto quindi ne va preso veramente tante e va picchiettato l'eccesso perché se no ci ritroveremo con una striscia marrone qua e non è il caso e adesso vado a fare il mio solito contouring con il 127 di Zoeva e poi vado a utilizzare come blush il rosso questo qui di questo veramente bisogna utilizzarne una punta e anche qui picchiettare l'eccesso perché è molto molto pigmentato però l'abbinamento di questo rosso con il marrone freddo è bellissimo e poi come illuminante vado a prendere l'ombretto dorato anche di questo veramente una punta perché tutti questi ombretti sono stra-pigmentati è una palette che io vi consiglio veramente tanto perché io davvero la sto utilizzando tutti i giorni e mi sto trovando molto bene sia a livello di pigmentazione sia a livello di durata del prodotto e poi a livello anche di colorazioni sono colori che mi piacciono molto e soprattutto sono perfetti per questa stagione per stendere l'illuminante utilizzo questo pennello qui di Zoeva che è il numero 105 e adesso passiamo alle labbra anche qui uno dei pezzi forti di questa collezione una novità ovvero questi matitoni che si chiamano due baci da una parte c'è la matita dall'altra parte c'è il matitone rossetto questo è nella colorazione incognito ragazzi che dire mi fa impazzire questo rossetto questo rossetto lo sto adorando tantissimo e lo indossavo nel video in cui ho risposto alle vostre domande quindi quello che ho pubblicato sabato mi fa veramente impazzire perché è un rosso scuro un po' tendente al mattone è veramente fantastico per questa stagione quindi vado a togliere il burro cacao che avevo applicato prima e inizio a delineare le mie labbra con la matita mi piace molto questo concetto di due in uno perché è veramente molto pratico questi sono dei colori veramente bellissimi però se non si vanno a delineare prima le labbra si rischia di fare un pastrocchio e quindi questa idea è veramente molto pratica e intelligente io mi sto trovando veramente molto bene e questo è il risultato finale a me piace veramente tantissimo anche perché quest'anno sono in fissa con questo genere di colori così forti così scuri ma allo stesso tempo molto eleganti e raffinati e quindi li metto sia di giorno che di sera perché veramente sono proprio entrata nel mood autunnale e quindi sono veramente in fissa con questi colori niente io spero che questo trucco vi sia piaciuto a me piace moltissimo spero che anche la collezione di Neve Cosmetics vi sia piaciuta quanto è piaciuta a me e comunque lasciatemi tutti i commenti che volete qua sotto e niente ci vediamo al prossimo video vi mando un bacione grandissimo ciao ciao